Allora, Gigi Marinelli, i pronostici della vigilia erano che Ruvo poteva darvi qualche difficoltà, almeno nella prima parte ci hanno trovato, ma voi siete riusciti poi a portare a casa un successo importante il secondo stagionale? Sì, diciamo, il primo quarto, il pubblico, il secondo 11-10-10, ci ha visto un po' il secondo stagionale, ma anche la partita che abbiamo preso, abbiamo preso l'ultima prestazione, soprattutto per il secondo quarto, ci siamo giocati subito 20 punti, il vantaggio, la palla, diciamo, l'abbiamo corsa molto bene, poi abbiamo avuto degli accorgimenti che eseggono di adesso, Dall'altro voi in difesa siete stati davvero incredibili perché siete riusciti a tamponare Ruvo nella miglior maniera? Sì, in difesa abbiamo fatto quattro quarti, ci eravamo prefissati di concedere 15-16 punti a quarto e effettivamente ne hanno fatto il 62, ma l'idea di 16 punti a quattro, quindi bene in difesa, abbiamo eliminato il giorno, devo fare i complimenti ai miei perché hanno interpretato benissimo la casa. Senti, adesso una bella settimana di allenamento, poi il prossimo weekend aspetta difficilissima in terra a Salendina contro un ardor desideroso di riscatto dopo aver perso la partita dell'esordio. Sicuramente una partita a tostissimi perché, l'hai detto bene, hanno perso la prima in casa, vorranno rifarsi contro il pubblico amico. Noi continuiamo a lavorare, come sempre, niente, poi stiamo tranquilli, facciamo la nostra partita, vediamo come va. Grazie, grazie a te. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te, grazie a te.